Il signor di Crabbe Service, vorrei qui la Presidente del Crabbe Service di Fricentini, Karin Giunta, dove è? Porta anche i piazzaluti. Buonasera a tutti. Do il benvenuto alle donne presenti e a tutti voi uomini che sostenete oggi questo momento, questo tributo alle donne, è un momento che deve valere ogni giorno per farlo. Io sono Karin Giunta e desidero ringraziare il direttivo di Agora, compresa la Presidente Carmine Di Tommasi. Vorrei farvi conoscere la nuova realtà del mondo femminile dei templari ferriciali. Scusate. Il club Service a Meno Mundi, questa struttura ha sedi a Fricentini e si occuperà di sociale, in momenti ricreativi e sostegno alle donne e ai bambini meno fortunati. Scusate un po'. Non sono più due di operare, non ho parlato. Non è davanti in tv. Comunque. Allora, è una sede con altri spazi e coltanto opportunità di svago, ma soprattutto, pensate, per le donne. La nostra comunità di Fricentini, con oltre 6.000 abitanti, aveva bisogno di questo centro. Naturalmente, non dimenticate il grande bacino di Modica e il sud-est. Come per la sede di Agora, sarà supportata dalla nostra protezione civile e dai caffè letterari federiciani. Vi presento il direttivo. Chiamiamo. Guglietta Maria Teresa Ed sono tutte donne. Prego, venite, venite. Rosanna Mallia Esther Cello E Giorgetta Rivaglia In un'altra... Purtroppo è invitato. Eh, va bene, la perdoniamo quando arriva. Sì, vi ha covato. Poi ne mancano due, purtroppo per motivi lavorativi, non possono essere presenti. Antonella Di Tommasi Ed è smontagno. Bene, ancora? Vorrei chiudere con un messaggio di vostra limoni. Ascoltate le donne, ascoltatele sempre, anche e soprattutto quando stanno in silenzio e dovrebbero parlare. Quel momento è molto... Aspetta, vale molto più di mille, mille discorsi. Grazie mille. Grazie, grazie. Grazie.